Benvenuti su questo canale! Manca sempre meno ai 600 iscritti, quindi vi consiglio di seguirmi per non perdere i prossimi aggiornamenti meteo. Andiamo a vedere quello che sta succedendo proprio in questo momento, a ovest un'enorme perturbazione si è formata ormai da diverse ore e si sta sempre più avvicinando all'Italia, le conseguenze sarebbero le seguenti. Forti precipitazioni piovose su tutto il centro Italia e nevicate deboli al nord specie su Piemonte-Lombardia ed Emilia per via delle basse temperature al suolo. Attenzione perché le nevicate potrebbero essere di moderata intensità nelle colline toscane e su tutto l'Appennino centrale con accumuli superiori ai 10 centimetri in poche ore sopra i 1000 metri di quota. Le città colpite dalle deboli nevicate potrebbero essere quelle del basso Piemonte, quindi Fiocchi a Cuneo, Torino, Asti, Biella, ma anche molte zone dell'Emilia e della Lombardia, comprese le città di Bologna e Milano. Per via delle deboli precipitazioni non si dovrebbero registrare accumuli importanti al suolo ma ovviamente tutto dipenderà dall'intensità delle precipitazioni, rimanete aggiornati perché altra neve a quote basse è attesa per giovedì.